Un ponte del primo maggio proficuo sotto il profilo delle vaccinazioni. Gli Open Day in tutto il Salernitano hanno fatto registrare la somministrazione di circa 20.000 vaccini. Anche a sud di Salerno, diverse le iniziative avviate. Nel solo ospedale di Vallo della Lucania sono stati 1.000 vaccini inoculati tra sabato e domenica. Qui il totale delle dosi somministrate dall'inizio della campagna ha raggiunto quota 30.000. A questi dati bisogna aggiungere quelli relativi ai centri vaccinali del distretto Agropoli Vallo. A Pollica durante l'Open Day di giovedì sono state 119 le dosi inoculate, 262 invece vaccinati ad Agropoli, mentre a Castellabate da venerdì a domenica sono stati 169, tanto che gli Open Day continueranno in questi giorni fino al 5 maggio per vaccinare la categoria 60-79 anni con AstraZeneca. Nel Cilento, in alcuni punti come ad Agropoli, si è già passati a vaccinare i cinquantenni, viste le dosi a disposizione. Anche nel Vallo di Diano il risultato degli Open Day è stato importante, circa 360 le dosi inoculate a Sala Consilina, altre 300 all'interno del centro vaccinale di Sassano. La formula delle aperture senza prenotazioni sembra dunque funzionare. A Sapri, nel centro allestito presso l'auditorium, nella sola giornata di domenica sono state 182 le dosi somministrate a fragili e ultraottantenni. La giornata, indetta proprio per recuperare gli aventi diritto non iscritti in piattaforma, ha avuto successo. La campagna nel Golfo di Policastro ha ottenuto un'importante accelerata. Si è raggiunta infatti quota 8.500 dosi inoculate dall'inizio delle vaccinazioni e a Sapri, nel pomeriggio, si attendono altre 200 somministrazioni, mentre domani, con l'AstraZeneca Day, altre 250 persone potrebbero essere immunizzate.